Quarta, la quarta, la quarta vittoria con Klicic nella fase eliminazione diretta di Champions League Liverpool l'anno scorso da mid 1-0, le due partite col porto e quella di stasera 0-2 a Daluzia, 0-2 a Daluzia Ragazzi ragazzi Non svegliatemi perché siamo pazzi proprio nel DNA Questa squadra è pazza perché il campionato fa fatica ma quando arriva in Champions Quando sente quella musichetta Ragazzi Un primo tempo giocato bene Perché sì il Benfica aggrediva come suo solito Ma con la pazienza ragazzi il pressing si aggira Ed è arrivata comunque qualche occasione Il tiro Vero Spazi intasati nel mezzo Le due punte non potevano essere servite E allora Cerby Circa la mezz'ora Se non po' di più Trova un tiro da 35 metri Dintanto così sopra la traversa Vlaco Dimos Sembrava esserci qua Mai dire mai E l'Inter si disunisce un attimo con Un paio di errori di Di Marco Su cui arriva un tiro di Di Gio Mario fuori dalla porta E Un tiro di Florentino Altissimo Ah è una parata distinto Ovviamente su Rafa Silva Sempre su errori di Di Marco Che Libera male l'aria Mette un colpo di testa nel mezzo E Meno male che un'ana È restata Con la mente sul campo Dopo Il gol preso da Can Treva in campionato Non era semplice E poi inizia il secondo tempo E' vero il Benfica inizia meglio Ma sbloccarla appunto Ragazzi L'asse L'asse bastoni Barella Ragazzi L'asse bastoni Barella Che palla ha messo bastoni Il 51esimo Grande attacco dell'area Di 4 giocatori A cui proprio Nicolo Barella Che Impatta E Batte Vlaco Dimos Sul secondo palo 1-0 C'è da dire Che bastoni Rischia tantissimo Perché Quello Su Gonzalo Ramos Per me Era rigore Per Oliver Non lo è stato Neanche per la VAR Ma si vede Che bastoni Va A colpire Gonzalo Ramos Sul ginocchio Non so come mai Non sia stato dato Forse un fuorigioco Nell'azione Forse l'intensità Del colpo Minore Non lo so Fatto Stache Però il rigore Dell'Inter È rigore Perché è vero Che sul cross Di Dumfries Oggi Dumfries Ha fatto partitone Quando va in Portogallo Fa il partitone Perché sì Perché il possibile Rigore Di bastoni Su Gonzalo Ramos Dumfries Salva Su Ramos Sulla linea Pazzesco Dicevo Il cross Di Dumfries Joe Mario Praticamente Scompostissimo È vero Che la tocca Di testa Ma La traiettoria Era Talmente pulita Che se anche Non c'era la testa Il colpo di mano Arrivava comunque Quindi Non cambia La traiettoria La palla Il leggero Colpo di testa E quindi È calcio di rigore Perché la mano È scomposta È larga Volume Corporeo È rigore netto Lukaku Lukaku freddo Come Una statua Fate Vlaco Dimos Che intuisce Ma è imparabile Quel rigore E poi Onana Onana L'ultima azione Su Salo Ramos Mette La parola fine Sulla partita E noi si gode Perché adesso Bisogna Tra una settimana Gestire il vantaggio È vero Con questo Benfica Non si può mai Star tranquilli Perché Era la squadra Che Aveva Comunque Eliminato La Juventus Nei gironi E aveva E aveva Dato testa Al PSG E aveva Praticamente Tramortito Il club Bruce Che aveva Vinto il suo Girone Quindi Diciamo Un'ottima vittoria Si gode Perché siamo pazzi Nessuno Può Eludere Il nostro DNA Sempre Forza Inter Qui da Daniele Azzurri è tutto Domani Domani mattina Aspettatevi un video E Non Day after Ma Qualsiasi cosa Ma Un video importante E Like Commento Iscrizione E Che dire Domani C'è il derby italiano Milan-Napoli E E Chi vinca il migliore Anche perché Chi esce Da Milan-Napoli E da Benfica Inter Si scontrerà In semifinale Bella